Musica Nell'avviso di vendita per la partecipazione all'esperimento d'asta viene espressamente indicato pena nullità dell'offerta, quale sia l'offerta minima al di sotto della quale non si può scendere nel formulare la propria partecipazione all'esperimento d'asta. Chiunque dovesse immaginare di veicolare un'offerta per un importo che sia inferiore a quella offerta minima verrà necessariamente e debitamente escluso dall'esperimento d'asta. Quali sono i passaggi logici che ci consentono di acquistare un immobile all'asta? Individuato l'immobile vado fisicamente sul posto e mi rendo conto se il contesto di zona è a me gradito. Fatto questo chiedo se l'immobile abbia un'anamnesi relativamente alla propria costituzione in tribunale che mi consenta di fare un acquisto garantito. Questo è il passaggio logico più delicato che ci consente di arrivare al Red Nazionem con la capacità di discernere l'immobile che possiamo acquistare dall'immobile che potremo invece lasciare andare per essere tranquilli. Nella realtà una volta visto l'immobile all'interno e scelto quell'immobile, procura notarile, partecipazione all'esperimento d'asta con la formulazione dell'offerta e con l'emissione di un assegno circolare bancario immediatamente dopo l'aggiudicazione e decreto di trasferimento, consegna delle chiavi e presa di possesso dell'immobile. Grazie per la visione!